Ho troppe foto, non so più dove metterle. Vi ritrovate in questa descrizione? È capitato a tutti, più o meno, almeno una volta nella vita, di ritrovarsi nella situazione di aver scattato un sacco di immagini, si spera belle, ma molte volte non lo sono neanche, e di trovarsi nella condizione di dire, cavolo, cominciano a diventare tantine, mi sto riempiendo la memoria del telefono, mi sto riempiendo la memoria del computer, se poi le archivio sul computer. Dunque, come facciamo a gestire questo flusso di immagini, perché tutti ce l'abbiamo, tutti facciamo una foto al giorno, almeno, col nostro cellulare, come facciamo a gestire questa molle di dati in maniera intelligente? In uno scorso video abbiamo parlato di come si archivia questa roba, quindi come si va a immagazzinare su dei dischi fissi, delle piattaforme cloud, quindi esistono diversi modi per salvare le nostre foto, ma nel video di oggi andremo invece a vedere come cancellare le nostre foto. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo proprio di fotografia e quindi di foto in vita mia ne ho cancellate tante, soprattutto perché molte, soprattutto all'inizio, quando ho iniziato a svolgere questa prima passione e poi professione, non erano buone, non valeva la pena tenerle, quindi molte le ho buttate semplicemente perché non andavano bene, non erano buone, non rispecchiavano quello che io volevo. Molte le butto invece perché il lavoro è terminato, sono trascorsi 90 giorni, io per legge devo tenere le foto 90 giorni quando un cliente mi ha pagato, non posso buttarle via il giorno dopo, le tengo per 90 giorni, in realtà le tengo molto di più di 90 giorni, però arriva un momento in cui le butto via. Nel corso di questo video andremo a vedere come, a mio parere, si devono buttare via le foto e badate bene, si devono buttare via, quindi vi consiglio di seguire questo video fino alla fine. Vi invito anche a iscrivervi al canale perché se avete trovato qualcosa di utile in questo video sappiate che ne pubblico tanti altri, quindi sarebbe un peccato andare a perderseli. Un like a questo video e parimenti cosa gradita. Comincio subito col dirvi una cosa, nonostante questo sia il mio lavoro, quando io tiro fuori una macchina fotografica o un telefono cellulare e faccio una foto, non è garantito che la foto venga bene, anzi è abbastanza normale che io mi ritrovi a dire che schifo la butto via subito. Questo per me è un meccanismo spontaneo, non è buona, la butto via subito, immediatamente. Molti di noi non lo fanno, molti di noi fanno delle foto e magari le riguardano a casa la sera o magari addirittura una settimana dopo. Questo ovviamente è un problema, ma lo sapete anche voi che è un problema, perché lo sappiamo tutti che poi ci si ritrova con la memoria piena di fotografie e ci si ritrova a dire, guardate che lo so perché succede anche a me, ci si ritrova a dire, porca miseria, le foto del compleanno della zia Ernesta, cioè le ho fatto 28 foto mentre soffia sulle candele, 28, e vai a vedere, dici ok, questa è buona, questa è buona, questa è buona, sono tutte buone, a parte che non ci crede nessuno, non ci crede nessuno ragazzi, riguardiamole meglio. Ah ok, quindi in una aveva l'occhio chiuso, in quell'altro è venuta mossa, in quell'altro si vede lo sputo perché sta soffiando sulle candeline e è venuto fuori lo sputazzo e si vede. Ah ok, forse possiamo cancellarne un po'. Nel momento in cui siamo su uno smartphone, soprattutto se siamo su uno smartphone, si tende a prendere le cose con molta leggerezza e quindi si fa anche fatica a scegliere. Bisogna fare uno sforzo per guardarle con attenzione e vi assicuro che nella maggior parte delle foto che abbiamo su smartphone c'è qualcosa che non va. Noi non ce ne accorgiamo perché le abbiamo fatte con leggerezza e siccome le abbiamo vissute quelle scene, le riviviamo con leggerezza nel momento in cui esaminiamo i file, quindi ci viene difficile stabilire se una foto sia buona oppure no. La maggior parte delle volte non lo è, ma semplicemente per via del fatto che il device che abbiamo utilizzato non è abbastanza prestante da darci delle foto sempre buone, quindi saranno decorose, però ci sarà quasi sempre qualcosa che non va. Un qualcosa di fuori fuoco, un qualcosa non esposto bene, un qualcosa con i colori sballati, c'è sempre qualcosa che possiamo migliorare e siccome abbiamo fatto 28 foto alla zia Ernesta che soffia sulle candeline, io vi assicuro che la zia Ernesta con quella faccia lì già di per sé non è una foto bellissima, quindi tenerne 28 è in assoluto la cosa peggiore che possiamo fare per le nostre memorie, anche perché quelle foto all'atto pratico tu le sfogli e effettivamente sembrano tutte identiche. Quindi il mio consiglio è innanzitutto quando facciamo delle foto, soprattutto se ne abbiamo fatte tante della stessa cosa, perché capita anche a me, la mia amicia è in una bella posizione, è lì tutta bella elegante, io le faccio 10 foto, poi però le riguardo subito e mi rendo conto immediatamente che ce ne sono due buone, non perché non sono venute bene, ma perché ce ne sono due in cui lei è esattamente come io la voglio, il fuoco è esattamente come io lo voglio, la luce e la composizione sono esattamente come io le voglio, non sono tutte. La prima magari è venuta di prova, la seconda di assestamento, la terza è buona, quarta, quinta e sesta le ho fatte di getto perché stavano venendo bene ma poi non sono buone, l'ottava di nuovo è buona, nona e decima le ho fatte tanto per e quindi alla fine di veramente buone, ce ne sono due, è importante andare a scremare questa cosa, andare a buttare via le otto foto che sono o dei doppioni puri, perché se la zia Ernesta sta soffiando, è lì così con gli occhi a palla e sta soffiando sulle candeline, è inutile tenerci 28 foto di quel momento, ne basta una ragazzi, anche perché la zia Ernesta in quella foto non si piacerà di certo, ha la faccia paonazza che sta soffiando come una disperata perché le candeline non sono più 30 e non sono neanche più 40, quindi insomma sta facendo la sua bella fatica, non è una foto che si stamperà sul muro, è una foto che può essere carina, divertente, è una foto con i parenti per carità, non è che le buttiamo via, però non le teniamo tutte 28, questa è una cosa molto importante perché dobbiamo imparare ad applicarla a tutto quello che facciamo in ambito fotografico, nel senso che non è che andiamo in giro, facciamo le foto e poi le buttiamo via indiscriminatamente, però ragazzi noi dobbiamo avere la consapevolezza, dobbiamo riuscire a guardarci dentro al punto tale da essere sinceri con noi stessi e dirci ma se io faccio 100 foto sono 100 capolavori, non è così ragazzi, non è così per me, non è così neanche per voi, ma non è così neanche per i megaprofessionisti rinomati, anzi vi dirò di più, più si sale e meno si pubblica, nel senso che un megaprofessionista super famoso fa mille foto in una sessione, poi ne pubblica 10, quindi ne ha buttate via 990, perché? Perché quelle 990 non erano perfette, non erano esattamente come lui le voleva e se sei grosso, se sei famoso non ti puoi permettere di buttare fuori della roba che non ti rappresenta, che non va bene, poi di questo potremo parlare anche in un video successivo se vi fa piacere, quindi fatemelo sapere nei commenti, i social media hanno devastato questo aspetto, nel senso che sui social media il tuo ultimo lavoro deve essere il tuo lavoro migliore, non puoi postare una cosa che sia meno bella dell'ultima che hai postato e questa è una roba incredibilmente sbagliata secondo me, anche perché voglio dire, se a me capita di, che ne so, di fare una bella foto alla mia amicia e poi il giorno dopo sono a fare fotografia industriale e poi il giorno dopo ancora sono a, facciamo finta che io sia un matrimonio, non ci sarò ma facciamo finta che io ci sia, e uno dice qual è la tua migliore di queste tre? Sono troppo diverse per metterle a paragone, sono delle robe che non c'entrano niente, la mia preferita è sicuramente la foto della mia amicia, ma a mani basse, ma non me ne frega niente della sposa, ma io preferisco la foto della mia amicia, la sposa la penserà in maniera diversa e il mio cliente che ha l'azienda per cui ho fatto foto industriale la penserà in maniera ancora diversa, ve l'assicuro, probabilmente preferirà la foto della sposa, ovviamente. Ma di questo parleremo in un altro video, il punto su cui mi voglio focalizzare oggi è che le nostre foto, primo, non sono capolavori. A me capita raramente di dire, ho fatto una foto ed è proprio bella, me la voglio stampare, anzi a un capolavoro non mi è mai capitato, mi capita ogni tanto di essere soddisfatto. No dai, mi capita spesso di essere soddisfatto, però non ai livelli di dire questo è un capolavoro, deve finire sui libri di scuola, perché no? E se non deve finire sui libri di scuola e se è un lavoro per un cliente, arriva un momento in cui noi ci separiamo da quel lavoro, l'abbiamo mandato fuori, l'abbiamo dato al cliente, il cliente ci ha pagato, il cliente è contento, passano i 90 giorni, noi possiamo buttare via quel materiale e dobbiamo imparare a farlo, perché vi assicuro che nel momento in cui cominciamo ad avere tanti, io dico lavori, ma possono anche essere foto che abbiamo fatto per noi stessi e magari siamo obbisti, se noi tutti i giorni andiamo a fotografare il tramonto in riviera perché ci piace tanto e perché ci sono delle belle nuvole, ok bellissimo, piace tantissimo anche a me fotografare i tramonti, però un bel momento dobbiamo cominciare a dire, ok, le prime 20 volte che sono andato il tempo faceva schifo, la ventunesima volta c'era un cielo della madonna e quindi cosa facciamo, le prime volte le butto via tutte? Magari no, ma le tengo tutte? Assolutamente no, faccio una bella cernita e delle prime volte ne tengo qualcuna, tengo le più belle, perché non ha senso riempirsi di roba che non ci rappresenta, perché quella che ci rappresenta è quella buona che abbiamo fatto quando il tempo era come lo volevamo noi, quando le nuvole erano come le volevamo noi, quella si tiene, quella che magari ci ha anche dato un'emozione, io mi ricordo tramonti bellissimi che ho visto in vita mia, alla Sacra di San Michele dalle parti di Torino, ho visto dei tramonti spettacolari, però io ho fatto delle foto a mezzogiorno in quel posto e poi delle foto al tramonto e le foto a mezzogiorno le ho riguardate dopo, mi sono detto sì questa è foto documentaristica, ma ne tengo una, ne tengo una per ricordo, ma ne ho fatte dieci di fotografie del posto a mezzogiorno e nove le ho buttate perché non mi rappresentavano, non raccontavano niente, non c'era emozione in quelle immagini, era proprio documentaristica, passavo di lì, ho fatto venti passi per mettermi nella posizione giusta, l'esposizione è corretta, tutto quello che vuoi, però le riguardi a distanza di anni e dici ma questa foto cosa racconta di me? Niente, cosa racconta del posto? Poco, a quel punto serenamente la puoi buttare via, magari la pubblichi sui social prima, la puoi pubblicare sui social, questo va bene, Instagram, quel cavolo che è, Facebook, tutto quello che vogliamo, si usano ancora quelle piattaforme? Io non le uso mai, anzi colgo l'occasione per ricordarvi di, io lo so che metto i miei riferimenti di altri social qui in descrizione eccetera eccetera, però io vi sconsiglio di scrivermi su altri social perché io non leggo, non leggo niente, quindi se mi fate una domanda la leggo sei mesi dopo e vi rispondo sei mesi e una settimana dopo, quindi c'è anche il rischio che mi chiediate una cosa che avete fretta di sapere e io vi rispondo sei mesi dopo, scrivetemi qua perché io sto lavorando su YouTube, le altre piattaforme le ho abbandonate quasi completamente, non mi stanno dando nulla e quindi non ci sto su quelle piattaforme, per cui per domande eccetera, io vi consiglio di scrivermi qui. Detto questo è importante imparare a separarsi dai lavori che facciamo, è importante cominciare a dire ci sono dei lavori che sono venuti bene, di cui sono orgoglioso e dei lavori che invece semplicemente no e quei lavori che possono essere lavori pagati per cui sono scaduti 90 giorni e quindi io posso liberare lo spazio e sbarazzarmi di quel materiale, magari lo dico al cliente, magari li tengo più a lungo, io li tengo per uno o due anni di solito i lavori, quindi ben oltre i 90 giorni perché poi il cliente che te lo chiede, ah ma quel lavoro ma ce l'hai? Sì ce l'ho ancora, te lo rimando. Quindi capita, succede, va bene, però non in eterno e soprattutto ogni tot dobbiamo metterci lì a fare un lavoro di scrematura anche dei lavori che abbiamo immagazzinato e che reputiamo buoni perché vi assicuro, ve lo assicuro che dopo anni se non va tutto storto, però insomma se le cose vanno come devono andare dopo anni riguarderete le prime cose che avete fatto e alcune le guarderete con molta tenerezza e direte questa la tengo perché mi ricorda quel momento in cui non sapevo fare niente, ho premuto a caso e fa schifo però a me resuscita dei bei ricordi, va bene, quella tenetela pure, però non mi potete venire a dire che avete un tera di foto e tutte vi suscitano quell'emozione perché non ci credo, non ci credo, qualcosina bisogna buttare via, io lo faccio, lo faccio abitualmente, ogni tanto vado indietro e mi dico va bene, però quest'immagine scattata tempo fa non la guardo neanche più con tenerezza perché ormai l'ho pubblicata, i clienti l'hanno pubblicata a loro volta, è uscita, è sulle piattaforme, quindi non è che la sto distruggendo e non la troverò mai più, però è online dove deve essere, magari sono artisti che l'hanno usata su Spotify, l'hanno usata sui social e lì rimane, ha senso che io mi tenga tutto lo shooting, di cui poi molte di quelle immagini magari non sono neanche mai state utilizzate, quindi vengono scartate, gli artisti stessi poi magari non le vogliono più, non le usano perché hanno scelto quelle in cui si piacciono e quindi abbiamo lì tutto del materiale che rimane lì, rimane lì, rimane lì e pesa, è un bel momento tu torni indietro e butti via, anche perché le riguardi e dici porca miseria, ma cosa ho fatto qua? Ma sto shooting di 5 anni fa, ma lavoravo in questa maniera, mamma mia, adesso le farei molto meglio, ecco, è evidente che in una situazione come quella possiamo, posso concedervi che teniamo quelle che gli artisti hanno scelto e quelle nove foto le conserviamo, può anche starci, anche se dopo anni anche no, perché comunque noi le abbiamo messe sui social, l'artista le ha messe sui social, le abbiamo messe sul nostro sito, sul nostro portfolio, qualcuno se l'è stampata, la madre del cantante se l'è stampata la gigantografia, ce l'ha in camera da letto, basta, quelle immagini hanno fatto il loro tempo e non ha più senso tenerle perché non verranno neanche mai più utilizzate, hanno fatto parte del nostro percorso, però arriva un momento in cui serenamente si butta via qualcosa, questo vale per i lavori, vale anche per le nostre cose personali, perché quando io faccio una foto alla mia bellissima amicia, ho delle foto di 13 anni fa che la maggior parte le ho tenute, perché sono foto che non torneranno mai più, nel senso che lei non sarà mai più piccola così, quindi quelle le ho tenute, ma sono 10 foto, non sono tante. Adesso, che gliene ho fatte un po' di più perché nel corso degli anni però ogni tanto vado a vedere e dico ok, la foto dell'amicia che dorme, quante ne ho? Ne ho 200, sono tutte belle queste 200 foto di un gatto che dorme, andiamo un po' a vedere, qui c'è disordine, questa è esposta male, questa è sfocata e ne butto via un po', perché tanto ce ne ho e quindi tengo solo le migliori. Questo procedimento, se noi riusciamo ad applicarlo a tutto quello che facciamo, andiamo a migliorare le immagini che ci teniamo, andiamo a spendere meno in spazio di archiviazione e otteniamo comunque un feed che sia su Instagram o che sia anche semplicemente nel rullino dello smartphone, otteniamo un feed più pulito, dove ci sono solo foto buone, perché quelle brutte, quelle palesemente sbagliate o quelle comunque che non ci rappresentano le abbiamo eliminate. Vi voglio mettere anche uno step successivo, questa cosa è bene cominciare a farla perché man mano che la facciamo ci rendiamo proprio conto di cos'è un'immagine buona e di cos'è un'immagine non buona e io vi assicuro che per quel poco che ancora uso i social, io cerco di non seguire più le persone sui social, io voglio seguire solo le aziende, perché sono assue fatto alla pubblicità, sì può essere, ne vediamo tutti così tanta ormai che forse la cerchiamo ormai, però per il mio occhio, per come sto cercando di sviluppare la mia testa soprattutto, per me vedere un contenuto sciatto pubblicato da un utente qualsiasi che non è fotografo e che non è neanche amatore, è proprio semplicemente un utente che sta al supermercato e fotografa i wuster aia che sta comprando e mette la foto su Instagram, per me vedere una cosa del genere è così brutto, mi urta così tanto proprio la bruttezza di certe immagini che vedo postate sui social, mi urta così tanto che io non voglio più vedere contenuti fatti dagli utenti, poi possiamo fare un discorso perché ci sono utenti che si comportano come aziende e aziende che si comportano come utenti, però generalmente se io seguo contenuti aziendali ho delle immagini curate fatte bene perché l'azienda ha il grano dietro e quindi le immagini sono tutte curate e io preferisco vedere quel tipo di immagini, questo ve lo dico perché? Ve lo dico per segnalarvi di non fare la stessa cosa, se avete fatto 28 foto della zia Ernesta che soffia sulle candeline, primo non pubblicatele tutte, ora crista è lì con le guance paonazze, con la vena del collo in rilievo, non mettete 28 foto della zia Ernesta sui social, un po' di pietà anche per lei mettetene una se proprio volete ma non 28 e guardatele prima di pubblicarle, io ho amici che letteralmente fanno seleziona tutto, pubblica, così loro hanno l'anima in pace, le ho pubblicate tutte e poi tu vai a rivederle e gli dici senti ma la prima è fuori fuoco, quindi già è gravissimo, cioè la prima che vedo è fuori fuoco, com'è sta cosa? Cioè non le hai neanche guardate, se le avessi guardate ti saresti reso conto che la prima o la mettevi per seconda o la buttavi proprio è sfocata, è brutto così, è brutto lavorare in questo modo, postare le foto in questo modo, io l'impressione che ne ho, cioè apro il feed, vedo una roba del genere, mi viene voglia di chiuderlo, me ne vado, cioè non è posto per me, io non voglio vederla questa roba fatta così, questo vale per me un utente meno tecnico, quindi un utente che magari non è fotografo, magari non arriva a avere la definizione tecnica di cosa c'è che non va, però l'impressione di una roba brutta ce l'ha anche lui e quindi secondo me è proprio una cosa che dobbiamo fare per noi, avere un feed curato e non ci vuole tanto, basta controllare che la foto sia buona, un po' di criteri base, ma proprio anche un po' di gusto estetico e buttiamo via l'eccedenza, buttiamo via i doppioni, buttiamo via quelle venute meno bene, ma soprattutto non pubblichiamo quelle venute male, perché stiamo facendo un danno enorme al nostro feed, ma quello amen è nostro, ma anche a chi guarda, perché chi guarda si abitua a vedere cose brutte, non curate e secondo me non va bene, insomma lo scopo un po' di tutto questo mio canale è cercare di trasmettervi che le cose bisogna cercare di farle bene, ovviamente uno può dire io non sono capace di farle bene, benissimo, iscriviti a questo canale, segui i contenuti e così man mano a forza di sentire le cose che poi mi ripeto perché sono anche un po' rimbambito, sto cominciando a invecchiare, quindi ogni tanto i concetti finisce che li ripeto e qualcuno mi dice la sappiamo già questa cosa, lo so abbiate pazienza, sono rimbambito io e poi c'è qualche iscritto nuovo che non ha visto i video vecchi, però ho capito cosa voglio dire, a forza di sentirle queste cose cominciate a dire ah ok allora questa regola è così, quella regola è cosà e quindi comincia a prendere forma una consapevolezza dell'immagine maggiore, questo è il mio augurio per tutti quanti quelli che mi seguono e anche per quelli che non mi seguono che invito a iscriversi ovviamente perché sono un bel 60% di chi guarda i miei contenuti che non è ancora iscritto, fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate se vi siete mai trovati in situazioni simili o peggiori perché a questo mondo capita di tutto, signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao